Le parole del Presidente della Repubblica a proposito dell'arresto di Matteo Messina Denaro, un evento che manifesta la supremazia della legge sul crimine. Con queste parole per l'appunto il Presidente della Repubblica ha voluto esprimere la riconoscenza dell'intera Repubblica per la cattura di Matteo Messina Denaro, sottolineando come questo successo dell'azione della magistratura e delle forze di polizia che si sono impegnate con tenacia e dedizione abbia rafforzato la fiducia dei cittadini in una società libera dalla presenza della mafia. Queste le parole del Capo dello Stato che ha incontrato nella giornata di ieri al Quirinale i vertici delle forze di sicurezza.